La firma del protocollo d'intesa che vedete nelle immagini è un passaggio burocratico ma anche il punto di partenza necessario per creare in Toscana a Firenze un nuovo centro di eccellenza mondiale della General Electric per lo sviluppo di turbine e compressori da produrre poi in Italia, nei siti industriali di Massacarara Firenze e di altre regioni. Un'operazione da 600 milioni di dollari che è stata presentata nella sede della Giunta regionale dai vertici della multinazionale con il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi e il presidente della regione toscana Enrico Rossi. È un altro tassello di una strategia di attrazione degli investimenti che stiamo facendo e che devo dire che negli ultimi mesi ha portato molte multinazionali insomma a rimanere e a investire ancora di più nel nostro territorio. Il governatore Rossi ha ricordato che quest'ultimo progetto culmina una partnership iniziata con General Electric nel 2010 che ha portato l'azienda a investire già a Massacarara, Firenze, Livorno e Piombino. Adesso ci rivolgeremo al governo per sottoscrivere entro tre mesi l'accordo di programma. È importante questo anche per le piccole e medie imprese perché sempre di più l'attenzione di General Electric si rivolge ad un sistema di piccole e medie imprese caratterizzate da una forte capacità di innovazione e da hanno anche una forte capacità di ricerca. Quindi una cosa davvero per la nostra regione tutta che non esiterei a definire di valore storico. Nel nuovo centro di eccellenza toscano di General Electric saranno impiegate 500 persone fra ingegneri e altre figure di elevato profilo professionale con l'obiettivo di aumentare in cinque anni gli attuali volumi produttivi del 50% e il fatturato di un miliardo e 700 milioni di dollari. Lo sviluppo dei prodotti inizierà quest'anno la produzione vera e propria di turbine a gas e complessori centrifughi nel 2019.